Grazie. 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 Grazie a voi, grazie a tutti, ci sarà poi il prossimo anno, visto che ci è piaciuto talmente tanto, andiamo avanti. Non so se ti piace il film, ma anche voi. Grazie. Forse non c'è. Sì. Sì, ma niente, direi che c'è tutto, molto c'è nel film, poi dopo bevendo finalmente riesco a bere un bicchiaio di vino con calma e poi chi vuole si chiacchiera. Però sì, l'unica cosa che volevo dire è che abbiamo parlato anche con Paolo e Stefano, anche con Irene, insomma, che dopo qui sono nati i miei figli. Sono qui dal 2000 anni, sono qui dal 96, vivo in Valsamoggia, diciamo non era ancora Valsamoggia, come dice mio figlio non era Valsamoggia, vivo qui però dal 2001 e questo viaggio, dopo 14-15 anni di spostamenti vari, ma comunque sempre in valle, e questo viaggio l'abbiamo fatto all'interno del nostro luogo dove lavoriamo e viviamo, per la prima volta mi ha dato quella cosa che non avevo ancora provato, cioè quella sensazione di appartenere finalmente a un luogo che non è il mio luogo d'origine che è Roma. e quindi per un po' non mi sono sentito più in asilia, quindi questo è stato, diciamo, penso che si senta anche da come il film è venuto fuori, credo, non lo so. Grazie a tutti. Grazie. Applausi. Quello che ci farei a dire è un ringraziamento perché quando abbiamo, come racconta un po' qui il film quando abbiamo cominciato, noi in Paola siamo da 26 anni residenti all'Eariente come racconto, però abbiamo sempre invitato la gente a casa nostra, ma non avevamo mai pensato di portare il nostro spettacolo, il nostro lavoro dove vivono gli altri, però avevamo veramente desiderio di fare questa cosa e allora quando abbiamo cominciato non sapevamo veramente che cosa sarebbe potuto succedere, ma per noi è stata una bellissima esperienza, quindi a tutti quelli che ci hanno accolto, che hanno aperto il centro sociale, la casa, Bruni addirittura che ha fatto piotere una sera per farci tornare, che ha fatto una speciale perché aveva piovuto, qualche aveva mangiato e bevuto uguale, però lui ha voluto perché lo spettacolo non l'avevamo fatto, siamo tornati, sono questo che veramente vorrei ringraziare tutti, poi con la tournée non siamo riusciti ad andare anche da tutti quelli che avevano dato la disponibilità, che avevano detto ma se volete venite anche a casa nostra, diventava effettivamente molto impegnativo e quindi abbiamo detto magari sarà per il prossimo anno, il prossimo anno sarà. Grazie. 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 Grazie.